A che punto è la regolamentazione di settore? Sì, la 141 oramai è addirittura d'arrivo e questo permetterà a Conafi di poter riconsolidare quello che era il suo mercato di riferimento. Oramai diciamo che siamo alle battute finale per cui cosa si avrà con questa regolamentazione del mercato del credito al consumo ma soprattutto del distributore? Di fare chiarezza di chi sono le società che sono autorizzate ad intermediare e chi invece a distribuire, cosa che finora dal 2007 a questa parte non era chiaro. Quali invece le opportunità del vostro core business cessione del quinto? Sì, noi crediamo molto a questo prodotto perché innanzitutto è l'unico prodotto regolamentato da una legge, la legge 180, che è in vigore oramai dal 1950 ma che permette una crescita sana dell'indebitamento delle famiglie e per questo con grande forza che noi siamo molto attenti a che tale strumento possa essere preservato perché come dicevo qualche tempo fa un suo collega, la cessione del quinto è il regolatore della crescita sana del credito al consumo per ogni Stato, un modello da esportare. Parliamo adesso del lancio di una nuova attività, i Mutui sul web, quali le prospettive di crescita? Innanzitutto non è una nuova attività perché noi trattiamo Mutui da 23 anni perché la formula, l'addizione esatta della cessione del quinto è mutuo contro cessione del quinto dello stipendio per cui le nostre analisi, il nostro target di riferimento è sempre la stessa persona, cioè la persona fisica e la famiglia quindi era indispensabile potersi affiancare, poter affiancare quello che poteva essere il naturale sbocco di crescita della conave perché non si era preso in considerazione negli anni precedenti? Perché eravamo troppo presi dal core business, dalla cessione del quinto mentre questi tre anni alla fine ci hanno permesso di avere la possibilità di sviluppare con piena attenzione tre anni che ci lavoriamo in un modello che manca al mercato infatti Mutuo sul web a differenza dei comparatori esistenti sul mercato del web compara, analizza e grazie a uno strumento, un algoritmo che abbiamo creato al nostro interno figlio della nostra esperienza di analisi la possibilità di poter definire il mutuo sul misuro sul richiedente per cui nell'ambito di quello che può essere l'usabilità del friendly del web in realtà affianchiamo l'opportunità che un nostro agente, un nostro funzionario a casa del cliente, al di là della freddezza dell'online, quindi del web stesso scusatemi la ripetizione delle parole, consente di poter ottenere direttamente a casa propria un funzionario con il quale condividere e valutare veramente le vere esigenze del cliente unico modello in Italia noi ringraziamo Nunzio Chiolo di Conafi Prestito, arrivederci